Sognava di diventare un grande circense e stava girando un video da mandare alla compagnia di Franco Dragone, uno dei creatori del Cirque de Soleigno. Artur Cacciolari, 21 anni, nato in Brasile ma ha ormai italiano d'adozione, è morto in un terribile incidente mentre si trovava in località Goya del Pis, nel Torinese. Il suo talento era indiscutibile e questa era l'occasione che poteva cambiargli la vita. Aveva scelto di girare il suo video al Calar del Sole sopra un torrente, per sfruttarne l'effetto scenico. Ha perso l'equilibrio ed è caduto nell'acqua, forse ha battuto la testa. A recuperare il corpo i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo perché la zona impervia il torrente è ingrossato a causa delle piogge. Con la giovane vittima c'era un coetaneo, sotto shock ma senza ferite, che è stato portato in ospedale a Rivoli.